di questi piccoli lettori che per tutta l'estate, da giugno fino ad agosto compreso, so che si sono cimentati, addirittura alcuni sono arrivati a leggere quasi dieci libri. Un saluto sicuramente, un ringraziamento a Dottoressa Pisani che sempre con passione segue questo evento, un'importanza forse esagerata, ritornare a un buon vecchio libro, a girare le pagine, cartacee di un libro, sia qualcosa che noi dobbiamo tenere ben presente. C'è stata una situazione molto particolare quest'anno, il numero dei bambini della scuola dell'infanzia, sono stati 12 i bambini iscritti al libriolo.